Siamo con Cristina Bubici a Palazzo Dogana per presentare il progetto Io ci sono al lavoro che coinvolge 20 ragazzi dai 18 anni. In che cosa consiste il lavoro? Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo di questo progetto è duplice. Da una parte intendiamo offrire un'importante esperienza lavorativa a questi ragazzi e quindi permettere loro di acquisire delle abilità spendibili nel mondo del lavoro e dall'altra vorremmo sensibilizzare tutta la comunità locale per fare in modo che anche la cittadinanza tutta, la comunità locale ma la realtà imprenditoriale possa acquisire la consapevolezza che questi ragazzi abbiano tanto da poter dare e abbiano dei talenti e delle abilità che se adeguatamente canalizzate possano dare un valore aggiunto alle realtà che le ospita. E quindi andiamo a sdoganare quel concetto per cui il ragazzo con sindrome dello spettro autistico o difficoltà cognitive non possa effettivamente svolgere determinati tipi di lavoro. Esattamente.